A un uomo! Casoria è un comune, una città molto importante, storica. Padre ha dato i Natali a dei santi, a dei cardinali, ha un impatto importante sia in chiave industriale che in chiave sociale. E soprattutto è il ponte verso una serie di comuni, di città altrettanto importanti che in totale cubano quasi 300.000 persone. E quindi la presenza di famiglie, di giovani, di start-up, di piccole e piccolissime imprese, di commercianti sono l'elemento che ha suggerito alla Banca di Credito Cooperativo di Napoli, al gruppo Bancari Crea, di investire su questo territorio. Soprattutto prendendo il testimone di una filiale dismessa. Qui nasceva tanti anni fa, io lo ricordo, era un ragazzo, la Banca Commerciale Italiana. Poi ha avuto una serie di vicissitudini. Fino a poi arrivare ai giorni d'oggi dove questa filiale diventa un hub, diventa un centro nel quale il credito, i servizi innovativi, digitali, algoritmici saranno accompagnati dal dialogo, dall'umanità, dalla presenza di una speranza che non deve lasciare le persone. Mi ha colpito dell'allestimento. Ci sono delle frasi, produci napoletano e risparmi a napoletano. È il nostro claim. 15 anni fa, quando aprimmo a Napoli la prima sede durante il fallimento dell'Aleman Brothers, ci dicemmo noi dobbiamo raccogliere e investire sullo stesso territorio. Quindi dobbiamo dare valore alla nostra produzione, alla nostra arte, alla nostra speranza, consumare i nostri prodotti. Insomma essere dei piccoli, nel nostro piccolo, ambasciatori della capacità che Napoli riesce a dare in tutto il mondo. La BCC di Napoli è una BCC importante che sta all'interno del gruppo bancario BCC Crea e il quale a sua volta sta all'interno del credito cooperativo. Il credito cooperativo che oramai ha 140 anni di vita e che si è diffuso in tutta Italia in questi 140 anni portando sul territorio la doppia valenza del suo essere credito cooperativo. Da un lato banca, banca del territorio, banca delle famiglie, banca delle piccole e medie aziende e da quell'altro responsabilità sociale sul territorio in cui fa la banca. Quindi attenzione alle istituzioni, alle associazioni, alla scuola, alla cultura del territorio stesso. Modello fatto di prossimità all'interno del territorio in un momento in cui le altre banche chiudono le filiali e noi come vedete le stiamo aprendo. Lo stare BCC di Napoli all'interno di un gruppo bancario che può fare investimenti, che può fornire servizi, che può fornire prodotti lo aiuta a fare la banca del territorio con prossimità fisica ma anche con capacità e strumenti per sovvenire ai bisogni dell'economia moderna. Siamo estremamente orgogliosi, felici di aver inaugurato oggi la filiale della banca di credito cooperativo di Casoria. La banca di credito cooperativo di Napoli nasce nel 2005 grazie al supporto di oltre 5.000 soci attuali. È una realtà estremamente vocata a servire il territorio. La nostra ambizione è quella di essere banca di prossimità nel vero senso della parola. Nonostante anche noi, come tutti i gruppi bancari, abbiamo i servizi digitali per noi è fondamentale che il cliente venga in banca parli con noi perché troverà sempre una persona, una voce ed un ascolto. Magari non riusciremo a risolvere tutte le esigenze però di sicuro non faremo mancare a nessuno la nostra presenza e il nostro conforto. Sì, è un riconoscimento importante, un momento particolarmente importante per la città è la testimonianza di una realtà, di un tessuto vivo che è quello casoreano e di tutto il nostro territorio. E non possiamo che essere grati a BCC di aver fatto la scelta di investire su questo territorio, di essere presenti sul nostro territorio. BCC rappresenta un riferimento, un'eccellenza, lo è sempre stato. Da questo momento diventerà anche ancora più un punto di riferimento per tutta la nostra comunità.